I carabinieri della compagnia di sala consiglina diretti dal capitano Davide Acquaviva hanno arrestato sei cittadini extracomunitari in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Lago Negro. Nello specifico i militari della stazione di Sassano comandati dal maresciallo Antonio Sirsi hanno eseguito la misura cautelare in aggravamento a quella già in atto dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria al seguito del non rispetto delle prescrizioni imposte dall'ordinanza cautelare in atto. applicata dall'autorità giudiziaria a seguito del loro arresto in flagranza di reato eseguito lo scorso 9 giugno. I sei stranieri vennero sorpresi infatti nel loro appartamento nella frazione di Caiazzano di Sassano con 11 involucri termosaldati di sostanza stupefacente del tipo marijuana amnesia del peso complessivo di circa 70 grammi della quale i sei extracomunitari avevano dichiarato di disconoscerne la provenienza. Durante la perquisizione i carabinieri di Sassano trovarono anche la somma contante di 1000 euro ritenuta provento dell'attività illecita di spaccio. Il tutto fu ritrovato dagli uomini del maresciallo Sirsi all'interno di una cassa panca tra tizioni di legna da ardere. I sei cittadini stranieri, previo fotosegnalamento, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. I sei cittadini stranieri, previo fotosegnalamento, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.